Come un essere umano? Sembra banale la risposta, ma è ciò in cui io credo, nel senso che io ritengo che una paziente, qualsiasi sia la sua patologia o qualsiasi sia il motivo per cui è andata lì, prima ancora di essere una paziente è un essere umano, così come il medico, prima di essere medico, è un essere umano e quindi come la volontà, la curiosità, l'interesse di conoscere e comprendere la persona prima ancora che la malattia, piuttosto che... e quindi un po' come diceva Ippocrate, sostanzialmente.